E' stata la seconda donazione di plasma iperimmune, quella di Cristian Marinelli, 46 anni ristoratore di Sant'Andrea in Villis, che ieri si è recato all'ospedale San Salvatore di Pesaro per compiere un ulteriore gesto di solidarietà. Iscritto all'Avis di Fano da ormai 5 anni, Cristian è stato contagiato dal coronavirus lo scorso mese di marzo. Dopo la guarigione ha dato la propria disponibilità alla terapia sperimentale ed è stato contattato. Il 4 giugno, la prima donazione, ieri la seconda. Cristian a quanto pare è un campione di anticorpi, un caso davvero raro in Italia. Io sono stato male dal 6 marzo e non ho fatto il tampone, non sono stato ricoverato, non ho fatto il tampone, ma mia moglie è stata ricoverata, ha fatto il tampone, quindi risultata positiva lei, abbiamo dato per scontato che ero positivo anch'io. Ho fatto il percorso dei guariti e ho avuto i tamponi negativi. Poi io sono donatore e ho chiesto per poter donare il plasma, mi hanno fatto il siero positivo, il siero logico ed è venuto fuori che avevo tanti anticorpi. Quindi oggi è la seconda volta che dono e niente, spero di aver fatto una cosa buona. Nella provincia di Pesero Urbino con il centro trasfusionale di Marche Nord sono stati esaminati poco più di 200 candidati. I donatori di questi sono stati selezionati 101 guariti sottoposti ad esami specifici che hanno condotto alla scelta di 56 soggetti. Un grande lavoro che ha permesso di ottenere oltre 30 donazioni destinate a crescere e far raggiungere ben presso il numero delle 40 sacche previste dal progetto provinciale. Ogni sacca viene suddivisa in altre quattro che verranno conservate e congelate in un apposito macchinario a meno 60 gradi, pronte per essere utilizzate per affrontare un'eventuale seconda ondata del virus oppure i focolai che si dovessero presentare nei prossimi mesi. Innanzitutto donare il sangue fa bene per noi che doniamo e soprattutto facciamo del bene a chi lo riceve. Quindi sto bene io fisicamente mentre dono e sto ancora meglio sapendo che posso fare del bene ad altre persone. Possono donare i plasmi per immune solo le persone contagiate guarite dal Covid-19 ma con una carica di anticorpi sufficiente da portare un beneficio sotto il profilo clinico. Il donatore abituale come Christian ha avuto un percorso agevolato tramite l'Avis perché sottoposto periodicamente ai controlli previsti per scongiurare la trasmissione ematica delle malattie. Il candidato paziente invece deve essere sottoposto a indagini preliminari e necessario poi avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni. Invito tutti ad andare a donare perché è una cosa molto bella, molto importante e soprattutto veramente si sta molto molto bene dopo aver donato.